a tutti ragazzi oggi finalmente vi parlo dei nuovi top di gamma di casa samsung sto parlando del galaxy z flip 3 migliorato in tanti punti di vista abbiamo schermo finalmente all'esterno da 1.9 pollici e all'interno da 6.7 pollici poi abbiamo il galaxy fold 3 che sarebbe il modello superiore a fold 2 e sicuramente saranno il futuro galaxy z flip 3 si presenta con un processore drop dragon 888 della serie qualcomm 8 giga di ram memoria interna da 128 giga ricarica da 15 watt molto veloce con una ricarica inversa a 10 watt una certificazione anche su galaxy z flip 3 x 8 che significa resistente ad acqua ma non alla polvere per esempio se lo portate al mare dovete essere molto attenti anche perché non sopporta la resistenza alla sabbia e alla polvere infatti una cosa che un po da fastidio abbiamo parte di dello schermo da 1.9 pollici invece davanti quando si apre da 6.7 pollici full hd super amoled infatti un telefono che a me piace tanto vorrei provarlo assolutamente però il prezzo pensiamo abbastanza ragionevole 1.9 euro per il modello male da 128 giga e 8 giga di ram se volete più memoria perché la memoria non è espandibile parti si parte da 1199 euro con 256 giga di ram a me è piaciuto molto migliorato anche dal punto di vista delle piegature sicuramente samsung ci ha lavorato moltissimo su questo punto di vista e dicono molti che resistente rispetto al modello precedente anche perché sappiamo il modello precedente ha avuto anche dei problemi come so alla luce del sole caldo freddo che ha portato anche dei piccoli problemi allo schermo migliorato su questo punto di vista abbiamo un display come ho detto esterno molto bello piccolino anche quando arrivano le notifiche senza aprire il telefono si tiene come vedete qua si tiene veramente bene in tasca e ha una reflex della pagina a 120 hertz che è la grande novità che sta da 90 hertz è stata portata a 120 hertz fotocamere davanti piccoline e dietro ne trovate tre da 12 megapixel con la principale e abbiamo la grande angola lo zoom le fotocamere samsung non ha migliorato nulla materia che da 3.200 mAh piccola per un processore dello sdrago 888 sicuramente non durerà molto secondo me un materiale migliorato rispetto al passato il mio è stato rinforzato veramente è un'ottima cosa galaxy z fold te lo consiglio anche per gli amanti evoli per vuole puntare un futuro migliorando tantissimo anche perché quando devo andare a fare un viaggio devo andare a qualche parte da un schermo grande lo diventa molto piccolino specialmente lo z flip 3 che è un prezzo molto ragionevole rispetto al suo fratello ma maggiore che che ora andremo a scoprire il fold 3 mancanze rispetto al fold 3 ci sono alcune mancanze per esempio doppio audio stereo batteria sicuramente più grande e anche 5g ora parliamo di galaxy fold 3 che si presenta con un processore strap drag 888 della qualcomm 12 giga di ram memoria interna da 256 giga o da 512 giga di memoria interna poi abbiamo una batteria da 4.400 mAh che dovrebbe arrivare a fine giornata e a due display uno da 6.7 pollici e uno più piccolino quando ripiega e diventa più piccolo da 6.2 pollici più piccolo più ristretto rispetto al modello precedente la certificazione anche come galaxy z flip x8 resistente ad acqua una manola alla polvere e alla sabbia poi abbiamo prezzi di partenza 1849 euro da 256 giga e 12 giga di ram e 1949 per il modello da 512 giga fotocamera all'interno dello schermo sicuramente samsung sta lavorando molto bene su questo punto di vista secondo me ottima cosa sicuramente galaxy fold 3 un ottimo telefono abbiamo tre fotocamere come galaxy flip 3 dietro però sempre da 12 megapixel migliorato dal punto di vista dei design ma dal punto di vista della fotocamera 0 novità di galaxy fold 3 per poco non mi scordavo la s pen è stata interrotta anche per e mi ricordo nelle confezioni non è uscirà il caricatore incluso dipende se lo prendete a mangiare alcune volte i venditori riesce vendono anche i telefoni con un caricatore all'interno della custodia infatti è un'ottima cosa la s pen via di utilizzarla anche per le note per fare dei disegni per utilizzarla anche con la possibilità di multi schermo ha possibilità di avere tre schermate nello schermo è un'ottima cosa ragazzi in conclusione con lo z flip per il prezzo perché più piccolino perché quando si apre diventa uno schema molto grande di utilizzarlo anche in giro sapete che è figata avere uno z flip su una taschina o avere in tasca sicuramente ottimo è utile per quanto riguarda invece fold 3 ottimo migliorato in tutti i punti di vista anche nelle aperture l'unica cosa che mi riammarica è la mancanza della resistenza alla polvere alla sabbia perché io vado al mare a me serve questa cosa mannaggia samu su mannaggia però comunque è un'ottima soluzione avere un galaxy z flip a disposizione sicuramente non vedo l'ora di provarli anche lo z flip 3 qualche negozio o altro per smarrettarlo un pochino e mi piace tantissimo ragazzi pro z flip 3 sarà il futuro in cui partire quest'anno anche l'anno prossimo anche nei prossimi dieci anni secondo me i samsi pieghevoli avranno un grande successo ma speriamo che uscirà anche per l'apple questa cosa che fra poco il 14 settembre sarà la data ufficiale ore se volete andare a vedere ore 9 la presentazione su watch 7 l'iphone 13 di apple che saranno ottime devo vedere come sarà dal punto di vista del design come sapete iphone del design non è cambiato molto in questi anni allora con questo è tutto vi saluto lasciate like con i miei video ci vediamo a un prossimo video ciao ragazzi